Una bella donna. Prima camminava dritta, ora è un po' piegata perché c'è problemuccio con la schiena perché è sempre lavorata. Come ti chiami ragazzi? Polito Francesca. Polito Francesca. Un saluto lei lo deve fare veramente perché ha tanti parenti in Australia. Perché lo faccio allora il saluto? Chi c'è in Australia? Mio fratello, Polito Domenico. In Australia? In Australia. E sì, tu, mai mi hai trovato voi? No, io mi sono arrivato. Io mi sono arrivato, io avevo tanti anni che sono arrivato, parecchie anni, cinquant'anni, ecco come passa il tempo. Ecco come passa il tempo. Va bene, salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Va bene. Grazie.